Se da un lato non aumentano le tariffe sulle imposte e servizi per il 2019, quindi restano invariati i costi di mensa, aria e sosta, scuola, bus, imutasi, ICP, TOSAP, tassa di soggiorno, illuminazione votiva, dall'altro la taria Castellabate sarà più salata per il 2019. Infatti a mettere in risalto tale situazione è il consigliere di opposizione Luigi Maurano. Nell'ultimo consiglio comunale l'amministrazione ha inflitto un altro colpo mortale al commercio del comune di Castellabate. Inizia così la nota stampa inviata alla nostra redazione del consigliere di opposizione Luigi Maurano. Sono state aumentate tutte le tariffe dell'Atari per le attività commerciali, per 995 utenze, quindi la bolletta sarà maggiore nel 2019. Nel giro di tre anni due aumenti è quasi un record, sottolinea Maurano. Per fare un semplice esempio, un ristorante con 150 metri quadrati prima pagava 2.220 euro, oggi con questo ulteriore aumento pagherà 2.443 euro, quindi 223 euro in più. Falegnamerie, officine, saloni di bellezza, negozi di frutta, macellerie, supermercati, paninoteche, negozi di abbigliamento, bar, tutti avranno la bolletta più salata. L'amministrazione invece di supportare ed agevolare queste attività che rappresentano l'economia e il tessuto sociale del nostro territorio, cosa fa? Le spreme ancora una volta, continua Maurano. È una scelta a cui noi della minoranza ci siamo posti convintamente, ma che purtroppo la maggioranza con i suoi nove voti ha approvato. Aumento che interesserà anche le famiglie, il cui nucleo familiare è composto rispettivamente da due, tre e quattro persone. Insomma, conclude il consigliere di opposizione Maurano. L'ennesimo prelievo dalle tasche dei cittadini. Dopo l'aumento delle bollette dell'acqua con il passaggio a CONSAC un altro aumento dell'Atari.